Guadagnare su Instagram oggi con tutti questi cali quando nessuno sembra vederci, è ancora possibile? Lavoro con centinaia di consulenti, insegnanti, coach e venditori di servizi e alla fine di questo video saprai il segreto che gli ha permesso di sapere i numeri che davvero contano e come hanno potuto fare della loro passione, la loro unica, e dico unica, professione, grazie a un lavoro completamente online. Chi è stufo di Instagram, alzi la mano. Io di certo ci sono continui cali, picchi, sta un po' perdendo la sua identità, non sa più se è TikTok, se è Pinterest, se è YouTube, non sa neanche lui cosa vuole essere, ma la realtà dei fatti è che se sai utilizzarlo è ancora oggi uno strumento potentissimo per crearti il lavoro che meriti, se hai una buona strategia al di fuori di Instagram. Quindi cosa dobbiamo fare al di fuori di Instagram perché Instagram funzioni? 1. Basati sempre su un motore di ricerca. Su Instagram sei letteralmente tu a dover essere social se vuoi trovare i tuoi clienti ideali. Se posti senza mai interagire o fare tu stessa conoscenza o tu stessa conoscenza sulla piattaforma, sarà davvero difficile che le persone ti troveranno da sole, a patto che usi a dovere la SEO. Se non sai di cosa parlo, guarda questo video. Se invece ti affidi a un motore di ricerca come YouTube, Google, un podcast, oppure un blog o addirittura Pinterest, le persone ti troveranno letteralmente mentre stanno cercando un'informazione che tu sei in grado di dare. Non c'è niente di meglio per me, nel mio caso specifico, per farmi trovare su YouTube, dove riesco a mostrare molto meglio la mia autorità e quello che so davvero fare e che ti posso davvero dare, per poi ricevere in DM su Instagram un Ti ho visto su YouTube e mi sei piaciuta tantissimo, quindi ti scrivo anche qui. Queste persone che arrivano da YouTube non sono semplici followers, ma persone strafidelizzate e che sanno già il tuo valore. Due, assicurati di conoscere la tua missione. Nessuno ad oggi viene attirato dal numero dei tuoi followers, quella festa di fuffa è finita. Tutti vogliono sapere cos'hai da portare sul tavolo, come si dice in inglese, tutti sono attratti dalla tua storia. Perché fai ciò che fai? Chi esattamente sta cercando di aiutare con le tue competenze? E come questo si collega a ciò che hai vissuto nella tua vita personale? Lascia stare le informazioni da curriculum, tipo tot anni nel settore, tipo Instagram coach da sei anni. La persona che ti segue vuole capire se hai passione per ciò che fai e se capisci esattamente dove sono loro, la loro situazione momentanea. Qual è la loro difficoltà, se puoi empatizzare con questo e capire benissimo qual è il loro obiettivo. E se ci sei passato prima tu o passata prima tu e puoi raccontare tutto questo attraverso la tua storia per far capire quanto sai quello che stanno attraversando, hai vinto. Devi creare un movimento di persone che vogliono superare le stesse difficoltà e arrivare allo stesso identico obiettivo, anche se con storie completamente diverse. E quello deve essere il tuo messaggio ripetuto all'infinito. Nel mio caso voglio che qualsiasi persona non si senta di fare il dipendente, qualsiasi persona vuole essere il proprio capo, libero da spazio e tempo, e avere la padronanza dei propri successi e i propri fallimenti come me, non dipendere mai più di un capo. Queste sono le persone che voglio aiutare, questo è il movimento che voglio creare. Qual è il tuo? Non vedo l'ora di saperlo nei commenti, quindi scrivimi nei commenti. Il mio movimento è voglio aiutare persone che è importantissimo capire chi vuoi smuovere, perché non potrai smuovere tutti e parlando con tutti finirai per non parlare con nessuno. Mentre invece se sai qual è il tuo movimento, qual è la difficoltà comune che puoi aiutare a superare e l'obiettivo comune che potrete raggiungere e vincere insieme, questo è quello che farà creare la cosa più importante ad oggi per vendere, ma anche per diventare un'autorità nel tuo settore, che è la community. 3. Assicurati di sapere come parlare con il tuo cliente ideale. Perché? Perché prima ancora di entrare su Instagram devi sapere parlare come le persone che ti stanno attorno o che vuoi attrarle. Quali sono le persone che otterrebbero il massimo della trasformazione da te? Che linguaggio usano? Usi lo stesso linguaggio o stai parlando troppo tecnicamente, scientificamente, medicalmente invece di parlare la loro lingua e quindi ti distanzi automaticamente da loro? Trova tra i tuoi parenti e amici le persone che sai aiutare al meglio e chiedigli in cosa hai talento, per cosa vengono da te o in che cosa hai effettivamente un talento naturale. Dopodiché esplora i forum, esplora gruppi Facebook dove ci sono persone che hanno bisogno della trasformazione che tu stai cercando di dare o hanno bisogno semplicemente del tuo aiuto. E inizia ad aiutare gratuitamente, quella è la tua perfetta palestra che è bellissimo avere nel 2022 e che le persone prima di noi non avevano. Puoi andare effettivamente in un gruppo di persone che ha bisogno del tuo aiuto, aiutarle a titolo gratuito e essere in grado di capire che linguaggio parlano, come puoi aiutarle alla perfezione, come creare un servizio su misura per loro. E in più, puoi indagare. Tra tutte le cose di cui stai parlando in questi gruppi, in cosa ti piace di più aiutare? Tutto parte da qui. Quando ti fanno una domanda, quale di queste ti fa illuminare gli occhi e quale di queste è quella di cui parleresti 24 ore al giorno? Proprio di questo parleremo nella Masterclass gratuita Business Creator del Black Friday, che è una Masterclass unica che se stai vedendo questo video prima del 23 novembre, sei ancora in tempo per accaparrarti gratuitamente, non si ripeterà mai più, non ci sarà replay. Il 23 novembre alle ore 21 svelerò cose che soltanto i miei allievi conoscono all'interno di Artegram e te la sto offrendo gratuitamente solo il 23 novembre alle ore 21. Quindi se sei qua prima del 23 novembre, corri al link in descrizione e iscriviti. Se sei qua dopo il 23 novembre, guarda la Masterclass gratuita, ma non sarà la stessa del Black Friday, che è una Masterclass super speciale che non si ripeterà più ed è praticamente un contenuto a pagamento che ti sto offrendo gratuitamente. Psss, è durante il Black Friday e ho detto tutto. Quattro, vinci con il passaparola. C'è un'arma ancora più potente dei social e ancora oggi quell'arma è il passaparola. Secondo Nielsen.com, e cito testualmente, l'84% delle persone dice di avere un'enorme fiducia rispetto alle opinioni che parenti, amici, ma anche persone on e offline hanno rispetto un prodotto o un servizio. Queste opinioni per il cliente rappresentano la loro personale fonte più attendibile nella scala dei valori. L'84% delle persone. E io stessa, più i miei prezzi aumentano, più le persone vogliono il parere di chi c'è già passato prima di investire. Il segreto a cui nessuno pensa però è che non c'è bisogno che siano gli altri a usare il passaparola. Se sei professionale al punto da chiedere un feedback al tuo cliente, da poter ricondividere su Instagram, su YouTube, nelle tue newsletter, ma anche nelle storie Instagram e sul tuo sito, sarai tu stesso a usare questo passaparola a tuo vantaggio. È importantissimo quindi che il tuo servizio sia un servizio di cui il tuo cliente è realmente soddisfatto, quindi un servizio di qualità. È importantissimo richiedere un feedback nel posto giusto e al momento giusto quando il tuo cliente è felicissimo. Ed è importantissimo usarlo a ripetizione mentre vendi i tuoi servizi. Repetition, repetition, repetition. Questo funziona sui social. Ripetere tutto quello che funziona e ha già funzionato. Inoltre, se puoi, crea anche un referral link, quindi un link di riferimento, oppure anche solo un semplice codice sconto del 10%, del 5%, per chi arriva dai tuoi attuali clienti. Non sai quanto questo ti può permettere di aumentare le vendite, con i clienti soddisfatti che in più hanno uno sconto da dare alle persone a cui ci tengono a consigliarti. 5. Usa la tua lista email o Telegram per fidelizzare quando Instagram ti mette in ombra. Gli unici contatti che davvero ti appartengono? Quelli della tua lista email. Instagram ti mette in ombra e hai lo spazio mentale per crearne una? Crea una newsletter, che sia settimanale o mensile. Così che per chi ti segue sarà impossibile dimenticarti, soprattutto se le tue newsletter sono molto belle. Mi raccomando, contenuti studiati e utili o sarai solo di peso. 6. Crea un percorso cliente che funziona su più piattaforme, non solo su Instagram. Che questa sia YouTube, la newsletter o il blog, non puoi mai basarti su una sola piattaforma. Nello stesso tempo è inutile basarti su tutte, per poi non essere costante su nessuna. La mia formula magica? Una piattaforma social, un motore di ricerca. Nel mio caso, Instagram e YouTube. Questo è il tuo salvagente. Questa è la strategia magica se Instagram dovesse chiudere domani. Il percorso cliente deve sempre passare da più piattaforme possibili man mano che cresci. Ma per partire, parti con due e sei al sicuro. E se ti stai chiedendo, ma Laura da dove si parte per creare tutto questo e avere effettivamente un business online che vende, non perderti questo video dove rispondo proprio a questa domanda. Ciao!